Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video, video nel quale, come avete potuto vedere dal titolo e dalla copertina, vi dirò quanto effettivamente guadagno con YouTube. Però, prima di tutto, facciamo alcune premesse. Per poter arrivare a guadagnare con YouTube bisogna soddisfare alcuni requisiti, ovvero il tuo canale deve soddisfare alcuni requisiti che YouTube impone, diciamo, a tutti i creator, chiamiamoli così, perché alla fine sono creatori di video, di un certo argomento, oppure sono dei personaggi che vi raccontano qualcosa. Partiamo dal presupposto che io non mi definisco creator, non mi definisco niente, anche perché ho un lavoro per conto mio, campo del mio lavoro e non di YouTube, prima di tutto. Oltre a questo, come vi ho detto in tanti video che ci sono sul canale e come ho risposto a molte persone che mi scrivono nei commenti, Io non ho aperto il canale YouTube per monetizzare, per diventare chissà chi, ma per il fatto che ho la passione per il mondo dell'automotive, tant'è che io parlo di macchine, moto, motori in generale, quindi di qualsiasi cosa. E oltre a questo parlo anche del mondo che ne gira attorno, come i vari costi, le varie problematiche e tutto quanto. E oltre a questo vi racconto anche come vanno alcune vetture che abbiamo in famiglia. Detto ciò, prima di poter guadagnare con YouTube, o perlomeno cominciare a guadagnare qualche spicciolo con YouTube, bisogna rispettare alcuni requisiti che YouTube impone a tutti i creator, o perlomeno a tutti quelli che aprono un canale YouTube e intendono pubblicare i video su di esso, su questa piattaforma. Il primo di tutti è raggiungere un minimo di ore di visualizzazione, ovvero raggiungere un minimo di ore dove gli utenti guardano i tuoi video. E queste ore qui non sono poche ragazzi, perché parliamo di oltre 4.000 ore. Questo però è uno dei tre requisiti principali. Il secondo è di non ricevere richiami da YouTube. Cosa vuol dire questo? Di non portare contenuti che influenzino negativamente il pubblico che guarda i tuoi video. Ultimo, ma non per importanza, è quello di aver raggiunto i mille iscritti. Oltre a queste ci sono tante altre piccole clausole da rispettare per poter prendere la partnership. Una volta arrivati a questo fatidico numero, e io ci sono arrivato per la precisione quest'estate, ovvero verso la fine di luglio, quindi è lì ho fatto la richiesta, perché si fa la richiesta per poter avere la partnership e dovete rispondere a tutte le varie domande e oltre a questo dovete essere accettati, perché YouTube valuta tutte le varie clausole che devono essere rispettate per avere la partnership e successivamente vi dà la partnership. Tant'è che io la partnership per averla all'incirca mi sono volute due settimane più o meno. Una volta che cominciate ad avere la partnership non è tutta rosa e fiori, perché cominciano altre varie responsabilità. Dovete comunque tenere in conto che se cominciate a guadagnare per YouTube è un'entrata e dopo successivamente ci dovrete pagare le tasse. Dopo non entriamo in questo mondo perché non è il mio ambito e ancora lo sto scoprendo. In futuro, quando avrò più esperienza riguardo a quando guadagnerò anche di più, perché fra un po' quando scoprirete quanto guadagno, vi metterete a ridere, vi spiegherò anche quest'altro ambito del guadagnare. Detto ciò, io avendo preso la partnership il 21 luglio, i primi guadagni che ho ricevuto da YouTube sono arrivati il 22 settembre. Perché questo? Perché YouTube, oltre ad avere alcuni requisiti per poter prendere la partnership, ha anche alcuni requisiti per far sì che lui ti paghi. Cosa vuol dire questo? Che se non raggiungete un minimo di guadagno, YouTube non ti paga. Cosa vuol dire? Che per poter essere pagati da YouTube, mensilmente, dovete raggiungere una piccola somma, ovvero dovete aver superato i 70 euro mensili. Ciò che io non supero tuttora, infatti, non è che vengo retribuito mensilmente da YouTube, ma vengo retribuito, ovvero mi viene fatto un bonifico, quando raggiungo questa piccola somma. E voi vi metterete a ridere perché direte, ma questi sono soldi che ho guadagnato. Sì, vi ripeto, dovete rispettare alcune clausole che ci sono per poter lavorare con YouTube, diciamo. Chiamiamolo lavorare, perché molti di voi si metteranno a ridere, ma per fare un singolo video, a me tra registrarlo ed editarlo, mi ci vogliono alle circa 24 ore. All'inizio, quando non sapevo niente a riguardo dell'argomento, anch'io, quando i creator dicevano, eh, ci vuole tanto, ci vuole tempo di edizione e tutto quanto, e soprattutto ci vuole passione, perché sennò questo lavoro, diciamo lavoro, nel senso, io lo chiamo lavoro perché effettivamente per me è un secondo lavoro, non lo fate, perché sembra tutto rosa e fiori quello che voi vedete nei video, ma non è rosa e fiori, perché oltre a quello che voi vedete nei video, c'è tanto, tanto lavoro dietro, di scrittura, di registrazione e di editing dei video. Detto ciò, passiamo effettivamente al guadagno che ho avuto da YouTube. Io ho avuto, perlomeno mi è arrivato il bonifico il 22 settembre, come vedete da questa foto qui, da Google Ireland, perché è da lì che ti pagano, di 102 euro e qualche spicciolo. Quindi, come potete vedere, non è che guadagni chissà quanto al mese da YouTube, visto che se facciamo i conti effettivamente al mese, io da YouTube ci prendo 50 euro, 51 euro e qualche spicciolo. Giusto anche per rispondere a qualche domanda di qualcuno che me la fa nei commenti, oppure di qualcuno quando pubblico i video nei vari gruppi, sempre per il fatto che molte persone guardano i miei video ma non sono iscritti e quindi quando esce un nuovo video viene perso, non viene visto e magari è un video che potrebbe essere utile a molte persone, perché stando nei vari gruppi delle varie vetture che possiedo e guido tutti i giorni, vedo alcune domande che vengono fatte in questi gruppi, alcune curiosità o alcune perplessità su alcune cose, che magari io avendo vetture, oppure essendo appassionato del mondo dell'automotive, che mi informo su queste cose qui, ma non è che mi informo da una sola fonte, ma bensì cerco più fonti in modo tale che le informazioni che do siano il più attendibili possibile, e oltre a questo vado anche a vedere canali esteri, oppure testate esteri, perché purtroppo informandomi in Italia del mondo automotivo la gente non è tanto informata, quindi informarsi anche all'estero fa sì che le tue informazioni siano il più attendibili e il più complete possibile. Tant'è che io non è che do informazioni a caso, tutte le informazioni che trovate sul canale sono il più attendibili possibile. Oltre a questo, questo video vuole essere anche risposta a tutte quelle persone che dicono che punto solo alle visualizzazioni. No, sinceramente a me delle visualizzazioni non me ne frega niente, vi ripeto, si guadagna con YouTube dalle visualizzazioni, e visto che i miei video oltre alle 1000-2000 visualizzazioni non vanno, io non è che ho tutti questi guadagni come potete vedere da YouTube, anzi, tutta l'attrezzatura che vedete, quindi le varie action cam, perché ne ho più di una, tutta la varia attrezzatura per farle stare in determinati posti, tutti i vari attacchi, il drone ha un costo superiore ai 3000€, e io questi 3000€ ancora da YouTube non l'ho mai visto, e non penso che li vedrò nel futuro breve, e quindi sono tutti i soldi che ho investito di tasca mia. Oltre a questo rispondo anche a una domanda che mi è stata fatta spesso ultimamente, sia nei vari gruppi, sia nei vari commenti di alcuni video, la Tesla ormai è obsoleta, è uscito il modello nuovo. Sì, ho capito che è uscito il modello nuovo, ma io non è che posso cambiare macchina ogni volta che esce il modello nuovo, perché non è che guadagno milioni. Quando sarò in grado di cambiare macchina tutte le volte che esce il nuovo modello, sarò ben felice di farvelo sapere, e sicuramente ve ne renderete conto anche voi, perché vedrete molte più auto sul mio canale. Spero di arrivare un giorno non tramite YouTube, perché non so sinceramente se c'è tutta questa possibilità, però lo scopriremo insieme, ma dandomi da fare, perché oltre a YouTube e a lavorare, io mi do da fare per potermi guadagnare qualcosina. Ciò che invito pure a voi di darvi da fare, e non lamentarvi che non c'è lavoro, che non c'è possibilità di guadagno, anzi, vi devo dire la verità che se vi date da fare, se vi impegnate, i soldi arrivano, soprattutto se fate un lavoro di qualità e con la passione. Detto ciò, ragazzi, questo voleva essere un video per farvi vedere che con YouTube non è che si guadagna chissà quanto, perlomeno io non guadagno tutte queste cifre. Altra gente che magari ha milioni di iscritti, ma io sono ben lontano da queste cifre, magari ci campa pure di YouTube, io ancora no, e non so quando effettivamente se mai ci camperò. Vi invito a non sparare sentenze a caso, perché se non conoscete una persona non potete dire che fa questo per poter guadagnare, no, perché non lo fa, non tutti perlomeno lo fanno per i soldi. Io lo faccio perché ho questa passione per il mondo dell'automotive e cerco e voglio dare una mano a tutte le persone che mi seguono. E se tu ti guardi i miei video e reputi che siano interessanti, ti invito a iscriverti così, in modo tale da non perderli, perché purtroppo ultimamente tra tutti i vari impegni mi scordo anche di pubblicarli nei vari canali, gruppi dove sono iscritto e quindi rischiate di perdervi alcuni video che pubblico che magari potrebbero esservi utili. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto questo video. Come potete vedere non guadagno milioni da YouTube. Non so se arriverà mai il momento in cui camperò solamente di YouTube, però io comunque lo faccio con la passione e di tutte le critiche che mi fate, perlomeno quelle non costruttive, me ne faccio un baffo e fate due fatiche voi a scriverle, perché ci perdete tempo. Leggo tutti i commenti, sia quelli positivi che negativi. Fortunatamente la maggior parte sono positivi e anzi, vi ringrazio di questo. Tutte le persone che mi volete chiedere alcune cose, alcune opinioni su determinati argomenti, non mi chiedete il numero di telefono perché non lo do a tutti, ovvero ho avuto un'esperienza negativa e quindi non vi do il numero di telefono, però mi potete tranquillamente scrivere su Instagram o su Facebook, dove vi rispondo senza nessun problema. Grazie di aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale in questo modo qui, mi aiutate a potervi portare sempre più contenuti e magari, visto che comunque i test drive sono richiesti e vanno alla grande, in futuro non escludo che posso darvi più opinioni su più macchine possibili o moto che siano. Arrivederci e al prossimo video!